A breve scadenza quello che ci preme di più è sicuramente il SIA perché il 2 settembre partiranno comunque le domande da parte dei cittadini che verranno raccolte ovviamente dai centri di assistenza fiscale e poi dati al Comune. È necessaria quindi un'organizzazione comunale adeguata alla risposta ovviamente delle domande dei cittadini. Sono ricominciati i lavori delle commissioni consigliari ed una delle prime a riunirsi questa mattina è stata quella del Welfare che si è convocata con all'ordine del giorno le valutazioni del bilancio in materia di Welfare e la programmazione in vista della riunione congiunta con la commissione bilancio. Le problematiche relative al bando per il sostegno all'inclusione attiva sono state l'argomento prevalente della discussione così come altri aspetti dell'assistenza sociale che emergeranno a breve in tutta la loro interezza poiché per affrontare ed approfondire i temi legati ai settori di maggiore attualità nei prossimi giorni la commissione ospiterà le audizioni degli assessori al bilancio Salvatore Palma al lavoro Enrico Panini e dal Welfare Roberta Gaeta. Abbiamo necessità comunque di convocare una commissione congiunta sia col bilancio sia comunque con gli assessori Gaeta per comprendere quali sono le linee guida e come noi come comune dobbiamo orientarci affinché i cittadini possono ricevere il miglior servizio possibile. Chiedo in questo caso e nelle prossime riunioni di commissioni anche la presenza dell'onorevole Carfagna e degli onorevoli che possono sicuramente sederci al tavolo con noi e dare un loro contributo affinché i cittadini possano ottenere un servizio nel miglior modo possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.